Io sono la voce del Nite 2000, un kit per gli amici. Vrei servirti meglio se fossi al corrente della tua strategia. Sono il Nite Industries 2000 e il mio numero di serie è Alfa Delta 227529. Non sono autorizzato a dare accesso al centro elaborazione d'aria. No, la vantemi! Quante persone sono state programmate per abbedire ai tuoi ordini? Qualcuno sta chiamando al computer, attraverso il telefono. È un altro computer, proviene da un telefono mobile. Non c'è niente, chi? Considerando anche quelle alcaiche. Quanto tempo resteremo in questo posto? Altri 10 minuti, massimo mezz'ora, chi? Quel piccolo computer di cui sopra. Collegato alla polizia, posso videocamere, toccare. Quel ragazzo vive in un mondo tutto il suo. Scalto a una moto, quindi non è la solita macchina, c'è la telecamera. Quella macchina sembrava la mia coglia. Era identica a me. Perché se le mie capite a me stavano ficcando sotto. Questo fu costarmi un perlottamento in uno di quegli squalli di personali parcheggi dalla polizia. Stava dentro a me, no. C'era un nuovo troppo elevato di veicoli alla festa di ieri sera. Fare un'analisi completa delle novità è molto complicato. Tra l'opera c'è dell'addirittura le saline alle immatricolazioni. Basta che si va al frati, pubblico registro. No, sono. Del pubblico registro sei l'unico. Sei perdonato? Fitti, per che cosa? Sei molto silenzioso. Non si può parlare del perdono. Non devo accettare, nonostante che sono sempre le grazie. Vediamo che cosa può farlo, deve incaricarsi tra un po'. Per me è sempre un piacere di ospitare una bella ragazza. Quella di dove è nica, ma oggi ti moche niente. I miei amico sensori avvertono due umani di sesso femminile. Sono quelle due ragazze bionde in fondo. I miei sensori indicano che la tua tenda è allo stadio di gravità. Dovresti rivolgerti immediatamente a oggi. Lo sesso vale per te, non ti accenditi. Senza il mio intervento ora saresti a qui. Non so, lo so. L'inverno del nostro travaglio è mutato di splendida estate, grazie al sole di Yonne. Shakespeare, Riccardo Delson, atto primo, scena prima. Un saluto Giulia. L'inverno del nostro travaglio è mutato... Scendiamo il computer. Ora col computer possiamo sentire qualcosa di diverso. Sì, ma vuoi finire con questa frase di sceglie? Sì, sì, ragazzo. Scendiamo il computer. Sì, video sorveglianza. Sì, sì, ragazzo. Come sento, mio amico? Sì, pausa. Tutti i sistemi sono attivati. Perfetto. Amico, le funzioni è fersi. Ora trasferisci l'immagine sull'altra mostra. Ora trasferisci con la polizia, che hai visto prima, amico. Ora fai vedere un po' le diffuzioni, ok? C'è il monitor quadrato, però in carbone. Questa è blindata, sta facendo vedere tutte le diffuzioni, questa è 91, fa 2,15, l'altra è 3,35, si tira la cosa. Cosa nel 91 c'è la tipologia di tecnologia? No, io l'ho fatta qui dall'America, penso per gli studios di ricambio. Ora guardando tutto, proprio noi veniamo a mettere qui. Il computer verrà e che poi me li usa quando se forse devono andare. Cioè, ma se si deve essere anche qualche effetto, come lo sai? Ho un amico che mi spedisce tutto da Londra. Sposato ora con una bambina, ha fatto proprio le controfigure, mi manda tutto. Poi io ho i ricambi, ci so fare... Avvocato sì, con le mani pulite, però mi metto anche con una ragazza di 22 anni, Bionda di Los Angeles, che è a Great, ha gli attrezzi. Quindi abbiamo passato tre giorni insieme, più i momenti che mi ha messo mani al motore, ad altre cose, che i momenti della cena, di passeggiare, eccetera. E io ho 49, ma la mamma me la segua tranquillamente, perché lei è un meccatronico, che viene da Los Angeles. Sono ragazze che non vengono sotto per fare bambolecce, o con i telefoni, ma io rimasti sconvolto, perché non è possibile che questa con i guanti ti smontano la testata.